Stamattina avrebbe voluto esserci Giovanni Totti ma fortunatamente è in Calabria perché lì presentiamo la prima lista di Coraggio Italia e quindi cominciamo a fare quella grande operazione che peraltro è l'operazione che ci porta qua insieme oggi. Io come Mauro, come magari anche tanti di voi, vengo da un partito del centro che è stato glorioso negli anni e nel quale io ho militato per 26 anni quindi un partito che è durato 26 anni, più o meno un'idea ce l'abbiamo tutti. Ho avuto la fortuna in questi anni di fare tante cose, la più bella di tutte è stata il sindaco del mio comune. Nulla è bello come fare il sindaco perché è guidare l'unica macchina che quando giri gira anche lei. Poi ho fatto il presidente della provincia e ho scoperto che è una macchina che giri e pian pianino gira e adesso devo dire che facendo il capogruppo della lista Totti Presidente in Regione grazie a Giovanni Totti abbiamo un'amministrazione regionale che risponde alla politica. Visto che la politica si fa l'honore delle scelte e di rispondere ai cittadini è giusto che quando si governa la macchina che governa ti risponda e faccia nel limite del giusto e del coerente ciò che chiede. Ma veniamo a voi. Per noi è bellissimo avervi qua perché quando noi siamo partiti un po' di tempo fa ci davano tutti dei matti. Eravamo quel gruppo di stupidi che abbandonavano un partito dal quale quando si esce si muore sempre. Sono morti tutti e noi non siamo tutti. E andavano verso questo signore qui che avrebbe abbandonato la barca alla prima onda. Ci hanno sondato l'anno scorso di questi tempi alle elezioni regionali e ci davano l'8% poi il 9%. Come è finita lo sappiamo tutti la lista Totti Presidente col 22,5% è diventato il primo partito della Liguria. Oggi siamo il primo partito per sindaci, siamo il primo partito per amministratori e ci presentiamo finalmente a un'elezione, quella di Savona, con per la prima volta una lista solo nostra. E quindi sarà anche il primo test. Il rapporto tra Busto e Alasio so che è un rapporto che viene da lontanissimo. E quindi chiedo prima dell'intervento, abbiamo fisici da sindaci, prima dell'intervento del sindaco, se lui ci vuole presentare un po' di delegazione però di Busto... No ma io vorrei innanzitutto che cambiamo, perché oggi il gemellaggio è tra cambiamo Ligure e Alassina e cambiamo Busto Arsizio. E ci è voluto un po' di coraggio e vediamo che questo coraggio venga manifestato dal coordinatore cittadino e dai vai rappresentanti.